Un colpo di scena che ha spiazzato tutti, un ritiro che mette in forte discussione la lotta al titolo irridato per Charles Leclerc. In questo video team radio un urlo che riassume senza aggiungere troppe parole lo stato d'animo attuale del pilota monegasco. Un'altra occasione persa da Scuderia Ferrari che questa volta viene tradita da un errore umano, errore che ci può stare ma che va ad aggiungersi a tanti altri episodi che spero non vadano a condizionare il risultato finale. Perché anche se tutto sembra perso, io amici continuo ancora a crederci. Sì, sei ok? Non posso fare foto! Ora è 2%. No! Grazie.